buongiorno e ben trovati oggi vi voglio mostrare un esercizio che magari alcuni di voi già conoscano ma ve lo voglio spiegare un pochino più nel dettaglio si tratta di abbinare un po il gioco di guida il gioco del porco spino e la figura 8 ricordo che il porco spino è il gioco numero 2 spostare il cavallo utilizzando il contatto e il gioco di guida è il gioco numero 3 che è spostare il cavallo usando la pressione ritmica a distanza cioè senza contatto perché faccio questo gioco da terra perché poi mi servirà da sella servirà da sella perché ovviamente il porco spino è quello che facciamo di più da sella ma poi anche in uno stadio più evoluto quando andremo a voler guidare il cavallo utilizzando per esempio lo stick da sella a questa maniera riusciamo a prepararlo meglio e soprattutto riusciamo a fargli capire che semplicemente cerchiamo di indirizzarlo un po dove vogliamo che vada e non deve prendere l'uso del nostro stick come una minaccia la la cosa che dobbiamo fare è dotarci di una corda corta e di uno stick che però a questo punto siccome non ci servirà lo string glielo togliamo questo lo buttiamo via tanto non ci serve queste pule qualche uno di voi l'avrà sicuramente già vista in uno dei miei precedenti video e andiamo prima di andare ricordate di mettere un like se vi piace il video a questo punto lo fate sulla fiducia perché ancora non l'avete visto e soprattutto iscrivetevi al canale se vi piacciono i video che facciamo così non ve ne perdete nessuno di quelli che andremo a fare anche in futuro e per chi è nuovo per chi si è collegato in questo momento per la prima volta e sta guardando uno di questi video per la prima volta ce ne sono altri 150 sul canale e sono organizzati in argomenti playlist eccetera per cui se ti viene dei dubbi magari su qualche cosa che faccio prima di iscrivermi una domanda ti consiglio ovviamente da andare a dare un'occhiata nel canale magari è un argomento che abbiamo già trattato per cui prendi subito la risposta senza dover aspettare i miei tempi ok allora cos'è che vogliamo fare ricordatevi bene è il porcospino e ogni volta che io utilizzo la corda e tiro sulla corda è sempre porcospino che vado a mettere pressione sul naso nel cavallo quindi sempre porcospino perché c'è un contatto è un contatto con un telecomando che è la corda del della leader hop però è sempre porcospino mentre quando utilizzo lo stick ad esempio in questo caso io voglio che lei giri la testa a sinistra e sta guardando di là cosa faccio io io vado a mettere un po' di pressione da questa parte lei la gira la parte sbagliata insisto 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 ecco adesso la rimessa dritta riprovo insisto insisto visto eccola perfetto bravissima e carezzo ricordatevi che lo stick a un prolungamento del nostro braccio quindi possiamo anche usarlo per per carezzare il cavallo ovunque bene allora a questo punto io voglio spostare il naso faccio pressione ritmica pressione ritmica pressione ritmica eccolo la avevo spostato il naso la parte opposta questo è un test che faccio prima andare a fare l'esercizio metto lo stick da questa parte e lei sposta da quest'altra bravissima faccio anche da questa parte così non è in avanti non è in avanti pule è di lato eccola qua bravissima allora pressione ritmica senza contatto ma il contatto ci può essere quando arrivo nella fase 4 posso magari arrivare a toccarla qua sul nasino è in modo da essere più incisivo e devi andare da quella parte com'è che funziona l'esercizio è semplicissimo è veramente semplice che questo è buono farlo anche su un puledro alle prime armi basta che gli fate fare un po di gioco d'amici con lo stick che lui non abbia paura e poi dopo potete immediatamente partire con questo esercizio qua e vi serve anche poi per migliorare la conduzione alla corda allora partiamo qui abbiamo due telecamere ogni tanto vedrete che cambia un quadratura perché così vi faccio vedere anche di lato cos'è che succede quindi questo è il mio indirizzamento la direzione dove voglio che vada fase 1 non va fase 2 è ok e vado da questa parte è semplice no appoggio lo stick qui sopra da questa parte cosa faccio faccio gioco del porcospino perché se lei non mi segue vado a mettere un po di pressione sulla corda vedete quindi in questo caso faccio porcospino quando arrivo qua nel centro cambio e faccio gioco di guida vedere appoggio sulla sugarese vuol dire niente vuol dire non vuol dire nulla ok lei pensa di fare il gioco del tocco il bidone ma non mi interessa tolgo lo stick lo posiziono verso il suo naso e appena lei risponde rimetto lo stick in posizione di riposo è come se questa fosse la fodera del fucile ok lo rimetto qua dentro quindi questo punto è di nuovo porcospino perché uso la capezza se lei si ferma metto un pochino di pressione con lo stick porcospino vado verso il centro e di nuovo guido un po e lavando dalla parte di là di nuovo guido un po e lavando alla parte di là quando siete in curva ovviamente dovete accelerare soprattutto da questa parte perché lei fa il cerchio più piccolo e voi fate il cerchio più grande ok adesso cambiamo da questa parte bimba brava vedete alterno porcospino e gioco di guida se ho bisogno porcospino non ci si ferma bravissima di qua ok mi fermo due passi indietro brava grazie un altro passettino grazie a questo punto faccio la stessa cosa dalla parte di là perché devo sempre equiparare il cavallo tranquilla adesso sta anche masticando quindi da che parte parto vi conviene sempre partire da dove usate il porcospino quindi in questo caso da questa parte ok quindi cambio di mano stick da questa parte vi dico andiamo e tengo lo stick appoggiato lì sopra ok come brava quando arrivo qui nel centro e vai vai a diritto uso lo stick per direzionare il naso vedete questa cosa mi servirà utile non si gioca al gioco del tocca al barile questa cosa mi servirà poi quando sono in sella perché quando sono in sella userò lo stick per spostare questo naso e cominciare a usare sempre di meno la redini e sempre di più il mio linguaggio del corpo il mio assetto quindi il mio assetto sarà la fase 1 2 la fase 3 4 diventa la pressione ritmica utilizzando lo stick quindi questo è un ottimo esercizio sia per insegnare ai cavalli a venire la lunghina senza fare troppe bizze e anche per insegnare al cavallo a essere più preparato quando poi dopo andremo a chiedere questa cosa da sella senza l'utilizzo delle redini è semplicissimo questo esercizio lo fate al passo ovviamente non lo fate al trotto è un esercizio che migliora un po' la tensione del vostro cavallo e soprattutto dovete pensare a rifinirlo ok quindi all'inizio magari dovete andare in fase 4 magari dovrete toccare sul garese magari dovrete mettere pressione sulla corda un bel po' però quello è normale un processo quello che dovete cercare di fare è diminuire sempre di più in modo da ottenere poi che il cavallo vi segue almeno come mi segue lei ok quindi ricapitolando questo esercizio fate prima di tutto gioco d'amici con lo stick perché il cavallo non deve avere paura dello stick poi usate porcospino e pressione ritmica una volta da una parte porcospino dall'altra parte pressione ritmica e poi dopo cambiate le parti ricordatevi sempre di farlo da entrambe le parti perché anche se l'otto è un cerchio che cambia ma voi state sempre della stessa parte quindi dovete poi scambiarvi andare di là se avete domande scrivetelo nei commenti vi ricordo di nuovo che come ho scritto come ho detto già in un mio precedente video diamo la possibilità l'opportunità di inviarci dei piccoli video dei vostri piccoli video dove ci fate vedere dei problemi e poi dopo io li commento in pubblico in un mio video successivo quindi al momento che ho due o tre video li selezionerò in base all'argomento che siano abbastanza importanti che siano diciamo utili per tutti e poi dopo in un video riepilugativo vediamo una volta al mese o quando c'è un pochino di cose da mettere insieme farò un video dove analizzo i due o tre video vediamo quanto diventa lungo non posso farlo lungo tantissimo che se no su youtube poi dopo quella gente non lo guarda e quindi se avete intenzione se avete dei problemi con i vostri cavalli se volete farmeli vedere ma farli vedere a tutti per cui magari ricordatevi di scrivermi anche due righe in cui mi autorizzate a mostrare i vostri video a tutti in pubblico se avete delle cose di questo genere a farmi vedere mandatelo se ritengo che siano di utilità pubblica poi dopo facciamo una cosa di questo genere vi ricordo inoltre che se vi piace questi contenuti qua che noi pubblichiamo abbiamo una sezione del canale che è in abbonamento e che dà delle informazioni più specifiche in particolare in modo parla di freestyle e di libertà di gioco in libertà e se invece volete essere seguiti veramente con un coaching one to one testa a testa online ho anche un servizio di distance coaching che potete trovarlo sul mio sito vi metto in descrizione il link dove poterlo andare a... c'è un video dove spiego tutto com'è che funziona e poi ci è spiegato un po' anche nella pagina web com'è che funziona i costi e tutto quanto quindi se vi interessa poi andate doveva vedere vi ringrazio avermi ascoltato fino a qui e penso che questo sarà l'ultimo video del 2020 per cui colgo l'occasione anche da parte di mia moglie Simona di ringraziarvi tutti per essere stati con noi per averci fatto compagnia in questo anno un po' particolare vi auguro a tutti un 2021 sicuramente migliore del 2020 e noi ci vediamo la prossima volta grazie 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 grazie